Siamo nati per dare alle persone l'opportunità di vendere online e raggiungere compratori in ogni parte del mondo. Anche oggi realizziamo questa impresa e ora più che mai diamo voce a voi italiani. Ebay supporta le piccole e medie imprese. Fallo anche tu. Italia 1! Sono Ellie Garcia. Ehi, tesoro! Io non dovrei fare la spia. Non c'è niente di brutto a spiare. Su Italia 1. Spatta! E qua appunto non ho Jack sul pizzellino stanetti. Non ho sentito. Vi presento i nostri domani sera 21 e 20. Nella vita le cose vere danno più piacere. Vere come Monini, l'olio extravergine della famiglia italiana. Buon appetito Italia! Monini, una spremuta di olive da 100 anni. Colazione golosa e leggera con tutta quella glassa? Ancora! Spiegatemi o vendetta volante. Maledetti, maledetti. Puntimotta. La colazione golosa e leggera a prova di deficienza artificiale. Forti del nostro passato per riscrivere il futuro. La fondazione Guido Carli. Solidale con gli eroi del nostro tempo. Nei periodi in cui mi sento stanca, scelgo Carnidin Plus. Con acetil e le carnitina, ha una formulazione equilibrata di vitamine e minerali che ti aiuta a combattere la stanchezza fisica e mentale. Con Carnidin Plus fai decollare la tua energia. E da oggi, una grande novità. Carnidin Fast, magnesio e potassio. Accendi Now TV. Guarda quello che ti va, proprio quando ti va. E se vuoi la spegni. Diavoli e le serie TV originali Sky. Subito in streaming da 9,99 euro al mese. Now TV, la TV come sei tu. Meno male che c'è internet, così possiamo video studiare a distanza. Magari avessi internet. Per te. Scopri l'attivazione super veloce di Lincoln. Per stare a casa, sempre connesso, senza limiti. A soli 19,90 euro al mese per il primo anno. Ancora non sei passato a Lincoln? Che aspetti? Hai mai provato con il vapore? Pulisce e igienizza in un solo colpo. Provalo con H2O Plus. Igiene sicura in tutta la casa. Sconto 40 euro. Scegli H2O Power X. Aspira polvere e scopa a vapore insieme. Sconto 70 euro. Usa la potenza del vapore per stirare. Scegli Stira Gold. Oggi costa solo 39,90 euro. Chiama ora Media Shopping. C'è la promozione vapore. Preparati per la prima avventura di fitness che si adatta a te. Continua a comprimere. Ring Fit Adventure. Solo su Nintendo Switch. Italia! Uro! Manipolo di Pazzi ci ha dato appuntamento nella speranza di poter surfare l'onda più grande del mondo. La cosa eccezionale è che verranno direttamente le Iene in casa vostra. Credo che lo scopo sia meritevole, per cui facciamo di tutto per aiutarvi. Chiamo le Iene. La forza dell'amore. Forza Iene. Mamma mia. Impressionante. Le Iene. Martedì, in prima serata. Italia. Buon viaggio.